Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono un chilometro di coda tra Empoli-Est, Ginestra-Fiolentina in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo-Fiolentino in direzione Livorno. Percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In A11 rallentamenti tra Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!